16 tabelloni portati a termine in meno di una settimana con le finali che sono state disputate tra venerdì e sabato in anticipo causa meteo. 117 le partite giocate sui campi in terra rossa del tennis como a Villa Olmo, vittorie italiane in quasi tutti i tabelloni con poche eccezioni. Si è conclusa la seconda edizione dell'Hilton Lake como championship torneo internazionale del circuito ETF senior organizzato e ospitato dal circolo cittadino con il patrocinio del comune di Como. Sono state 10 le nazioni rappresentate con atleti in arrivo non solo dall'Europa ma anche dall'India. Ai 12 tabelloni già compilati tra maschile e femminile se ne sono aggiunti 4 di doppio. Da segnalare tra le vittorie quelle nelle categorie over 75 con Giovanni Mantineo che ha prevalso su Enrico Gianola e nell'over 80 con Enzo Migliorini che ha chiuso davanti a Piero Isacco. Nel femminile invece Laura De Vittori comasca è stata profeta in patria nell'over 60 aggiudicandosi la finale con Carola Kluzer. La prima edizione era stata nel 2019 poi la pandemia e l'emergenza sanitaria legata al covid avevano costretto gli organizzatori a cancellare l'edizione 2020 ma quest'anno si è tornati di nuovo tutti in campo. Siamo molto soddisfatti di come è andato il torneo ha commentato il direttore dell'evento Paolo Carobbio è stato ottimo anche il giudizio dell'ITF sull'intera manifestazione.